Oggi ci troviamo in un negozio di ottica alla quale abbiamo un grande assortimento di occhiali, non diciamo momentaneamente il nome ovviamente, perché lo faremo dire direttamente all'interessato, che da molti anni è sul mercato, quindi è una garanzia, abbiamo notato tante persone che vengono al negozio, ma non solo, quando escono dal negozio sono sorridenti, il che significa che sono rimasti soddisfatti, questo è il primo impatto che noi abbiamo notato. Ma parliamo con il diretto interessato, lei da anni è qui, quindi è molto conosciuto, ha dei suoi clienti affezionati, ecco che cosa consiglia di solito ai clienti che vengono qua, ecco quando magari sono indecisi, non sanno che tipo di occhiale prendere, la montatura, la lente, diciamo una persona che magari non ha problemi di vista e vuole comprare un occhiale da sole. Un occhiale da sole, un occhiale da vista, uguale, comunque consiglio sempre un ottimo occhiale che abbia delle ottime lenti, perché altrimenti non deve entrare in un negozio di ottica. In un negozio di ottica c'è sempre l'ottico di bromato, che dovrebbe consegnare, dovrebbe consegnare lui stesso l'occhiali sia da sole che da vista. E che posso dire? Io qui dal 1977 sono un occhio a Poggio Mogliano, però che faccio questo lavoro dal 1953, sono ormai passati oltre il secolo, perciò penso e desidero sempre che i miei clienti siano soddisfatti, perché la miglior pubblicità è questa, che il cliente sia soddisfatto, così può consigliare i suoi amici, i suoi parenti di venire qui all'ottica Cialatti di Oggio Mogliano. Ecco, e che tipi di occhiali possono trovare qui da voi? Qui tutti i tipi di occhiali possono trovare, perché fino a qualche anno fa ero solo, allora poteva avere tutte le marche, immaginabile possibile, come ce l'ho tutta ora. Ecco, allora qui troviamo tutte le marche di sistemi di occhiali, quindi una bella garanzia per il cliente. Adesso noi abbiamo trovato il sistema di fare uno sconto particolare ai clienti, perché attraverso la conduzione familiare, io lo posso fare, uno sconto del 20% su tutti i l'occhiali, sia da vista che da sola. Allora diamo appuntamento a tutti coloro che ci seguiranno sulla web tv, a Poggio Mogliano, via Romero 19A, proprio all'inizio di Poggio Mogliano, che qui sono, come ripeto, del 1977. Siamo in attesa per consigliarvi a loro. Comunque consigliamo sempre al meglio i clienti, come ripeto, per farli rimanere sempre su tutti i clienti. Bene, grazie e buona giornata.